E allora vai! Vai, vai! Lui si chiama Guido, ed è il mio miglior amico. Facciamo quasi tutto insieme, e quasi tutto vi assicuro non è poco. Eh ma oggi non va, forse è colpa mia se è litigato con lei, la sua ragazza, gli ha urlato o me o il tuo amico, e lui ha scelto. Gli direi, Guido, su di me puoi sempre contare, puoi sempre... Già, ma come faccio a dirglielo? Interessante Grazie a tutti.